Innanzitutto salutate Spint. Salutate Spint. Saluta Spint. Ciao. Dopodichè mi piace la macchinina? Mi piace? Una penna. Può sempre servire. Appoggiamola. Scusate c'è qualcos'altro che io. Tic tac. Buoni. Volete? Io me ne prendo uno. Siete male? Non c'è nulla più. Scusate c'è qualcos'altro? Vediamo. Il mio documento personale della magia. Questo va via con me. Se permettete. Io non sento più nulla. Vediamo. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. E con questo io vi saluto. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.